Noi abbiamo bisogno di grandi avvicendamenti, faremo dei ritocchi importanti, alcuni acquisti di grande spessore li abbiamo già fatti e ho detto prima che ci manca un centrocampista di un profilo di esperienza e di quello che stiamo cercando in questa settimana. Ma io non dico che sia Matuodio, ho detto che è un profilo di un giocatore di esperienza, poi vediamo le opportunità che si verificano anche perché inserire dei giocatori nella Juventus attuale non è cosa facile in quanto il valore dei singoli è molto elevato per cui sicuramente dobbiamo abitare attentamente cosa facciamo.